Secondo quanto riportato dai media nazionali e internazionali, un passeggero è deceduto poco dopo il decollo di un volo Ryanair partito da Malaga, in Spagna, e diretto a Manchester. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Nonostante i tentativi di soccorso del personale di bordo, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'equipaggio ha immediatamente avviato le procedure di emergenza, ma a bordo un altro passeggero, colpito dalla tragica scena, ha accusato un malore. In conformità alle procedure standard in situazioni simili, l'equipaggio ha richiesto la presenza di un medico a bordo e il comandante ha preso la decisione di atterrare d'emergenza all'aeroporto di Bordeaux, in Francia. La presenza di un'ambulanza presso l'aeroporto francese si è rivelata fondamentale, poiché oltre alla donna che si era sentita male, altri passeggeri avevano manifestato crisi di panico. La compagnia aerea ha fornito una notte in hotel ai passeggeri, poiché era impossibile proseguire il viaggio con un altro aereo. Tuttavia, alcuni viaggiatori hanno manifestato disagio per aver anticipato le spese relative al trasferimento dall'aeroporto all'hotel. In risposta alle lamentele, Ryanair ha assicurato il completo rimborso di queste spese impreviste. La vicenda sottolinea come, nonostante gli elevati standard di sicurezza degli aerei, situazioni impreviste possano influenzare negativamente l'esperienza di viaggio. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.